Per Radiofonica.com siamo in compagnia di Max Collini, frontman del Lioflaga Disco Pax perché suoneranno questa sera all'Urban Club di Perugia per presentare il vostro ultimo album che si intitola Gioco di Società. Ci spieghi un po' perché questo titolo? Gioco di Società è un'intuizione di Enrico, che oltre che essere l'uomo della musica elettronica del gruppo è anche il grafico che ha curato da sempre l'immagine grafica del Lioflaga per cui abbiamo sempre avuto molta attenzione e aveva trovato un vecchio gioco di società che si chiama Corteo, che aveva avuto un certo successo negli anni 70 e Corteo riproduceva le dinamiche di una manifestazione di piazza in una sorta di risico giocato su una città immaginaria in cui c'erano tutte le dinamiche legate a una manifestazione, a un corteo. Addirittura a un certo punto si era anche pensato che Corteo potesse essere il titolo del nostro nuovo album però il gioco di società come titolo si presta a più chiavi di lettura e quindi può essere appunto visto in diverse ottiche. Noi poi, Enrico, quando poi ha studiato l'artwork definitivo dell'album invece che la città immaginaria di Corteo ci ha messo la nostra città a Reggio Emilia perché poi ci siamo resi conto mentre lavoravamo al disco che la città era molto presente più del solito, non che prima il nostro territorio non fosse presente negli album precedenti ma in questo caso lo era ancora di più al punto che la città invece che essere soltanto uno sfondo in cui puoi raccontare magari storie più minime e più personali era proprio alle volte anche addirittura protagonista per cui è venuto naturale inserire nel gioco di società la nostra città che tra l'altro ha una forma esagonale, la città storica, le vecchie mule della città erano esagonali come erano esagonali le pedine di gioco di Corteo per cui c'era anche questa coincidenza perfetta per cui insomma alla fine soprattutto nella versione in vinile c'è il tabellone completo del gioco di società riprodotto sulla pianta esagonale di Reggio Emilia con gli esagoni con vecchie foto d'epoca della città, diciamo di una città fotografata dal dopoguerra in poi con molti dei luoghi che poi ripercorrono i brani del disco però non abbiamo stabilito le regole per il gioco di società quindi ognuno solo può giocare in modo un po' anarchico come gli piace Quest'album è comunque, almeno secondo me, quello un po' più intimista anche un po' più drammatico se vogliamo si è persa un po' quell'ironia che invece caratterizzava socialismo tascabile piuttosto che bachelite che cosa è successo? È dovuto al periodo storico attuale o a una questione tua personale? Ma io credo che il portato ironico ci sia anche in questo disco del resto l'abbiamo intitolato gioco di società, qualcosa vorrei dire molta ironia, molta autoironia in un brano come A pagare e morire faccio dell'autoironia su una roba anche un po' drammatica come dici tu appunto credo semplicemente che il linguaggio in questo caso, questo terzo giro il mio linguaggio rispetto ai testi sia un po' più misurato un po' più dimesso forse anche non saprei spiegare bene il motivo, non c'era un disegno aprioristico su questa cosa secondo me il mio modo di scrivere è un po' cambiato e mi sono reso conto a posteriori sempre che magari un po' di artifici retorici un po' di battute non c'erano più ce ne sono meno, non è che non ce ne sono più la speranza è che mettere meno, togliere possa però dare più importanza a quello che è rimasto non so se sia veramente così, comunque l'aspetto ironico e autoironico di quello che scrivo penso che sia piuttosto presente in molti brani adesso non so, in un brano come Sequoia gli scappellotti se parla Paillette non sto attento e gli scappellotti se invece parlano Fanfagne e Mirante sto attento davanti alla tv da bambino penso che un sorriso l'abbiano strappato senti, invece tu comunque non hai mai pensato di passare da questi reading praticamente che fai a qualcosa di cantato, hai mai pensato di cantare? sai cantare? no io ho iniziato a fare questa cosa che avevo 36 anni è un'età in cui la maggior parte delle persone smettono eventualmente di farla perché magari non hanno raggiunto una visibilità, una autorità ci sono altre priorità nella vita, si mette su famiglia per cui magari il tempo personale diminuisce per coltivare una propria passione diminuisce io invece ho iniziato quando appunto molti altri magari hanno smesso un esordiente veramente tardivo forse non è più tardivo ma me la gioco con parecchie insomma e il progetto è nato così cioè è nato perché io ho scritto questi racconti Enrico e Daniele piacevano, abbiamo iniziato a musicarli ma quei racconti sono incantabili il mio modo di scrivere non è cantabile io non ho gli strumenti per cantare non mi viene neanche, non è una cosa naturale è una cosa che rimane nell'ambito privato sotto la doccia insomma in una dimensione domestica ma non in una dimensione pubblica diciamo e non è un'esigenza nemmeno che ho o che abbiamo per cui non c'è questo problema certo, nell'ultimo disco in particolare un brano come Parlo da Solo il testo è talmente ermetico e musicale talmente dentro a proprio le ritmiche del brano e alla sua struttura che sembra proprio una vera e propria canzone noi viviamo tutti i nostri brani come vere e proprie canzoni ma in questo caso insomma un po' più dura tre minuti cioè questo testo non immediatamente narrativo intelligibile ma più appunto scusate il termine poetico mettiamola così insomma più metrico ecco forse meglio più attento per cui è una struttura da vera e propria canzone ma io ugualmente non canto qualcuno ha detto ma in Parlo da Solo canto ma che canto di che? no semplicemente la parte del testo è talmente compresa nella musica ed è talmente nel suo coesa che può dare quell'impressione ma in realtà io continuo a fare quello che sto facendo adesso con questo microfono insomma cioè parlo nel documentario Finché l'Emilia va tu parli di un'Emilia rossa solo all'esterno perché la pensi così? cioè perché credi che in realtà all'interno non si noti il rosso emiliano? ma forse volevo dire un'altra cosa volevo dire che il mito il mito dell'Emilia rossa di questa terra ideologicamente così diverso rispetto ad altre parti d'Italia è un mito molto forte all'esterno cioè uno si immagina che viene a Reggio Emilia e trova i cosacchi insomma non è così e se si va in un bar di Reggio Emilia si ascolteranno gli stessi discorsi probabilmente in qualunque altro bar italiano consumature forse diverse ma non è che Reggio Emilia è in una città in un altro paese è in Italia vale per Modena per Bologna queste città storicamente definite rosse ma in cui comunque il mondo è uguale che in altre città appunto con sfumature diverse c'è però un portato culturale ideologico storico della città che comunque sopravvive e il suo spirito solidaristico cooperativistico sicuramente è più forte è più strutturato è più presente magari che in altre realtà però i sogni dell'Emilia Rossa bolshevica sono un po' sfumati insomma e rimangono delle vestigia le vie con dei nomi un po' oggi un po' desueti e la toponomastica insomma una marea di circoli una marea di luoghi di aggregazione in cui comunque i valori i valori portanti sono importanti e figli in qualche modo di quella tradizione però insomma se venite a Reggio Emilia oggi non è che trovate il socialismo realizzato insomma magari